Sei stufo della vita in città? Allora questo è il canale per te! Oppure non sei stufo della vita in città ma comunque ti interessano tutti gli argomenti riguardanti la natura? Questo è il canale per te! Ciao a tutti ragazzi, sono Davide e ho cambiato vita! Ho venduto la mia casa in città, ero nella bassa bergamasca e mi sono trasferito qua in Emilia perché appunto sono stufo del casino, dell'inquinamento, del caos che mi circondava. Gli argomenti che affronterò appunto in questo mio canale saranno tutti quelli riguardanti l'agricoltura in particolare, quindi l'orto, i campi, gli animali, insomma come procede la mia vita qua in montagna. E alle mie spalle come potete vedere c'è il monte Barigazzo, se qualcuno è della zona comunque si può capire più o meno dove mi trovo. Siamo a 550 metri sul livello del mare, momentaneamente sto vivendo con i miei e ancora perché ci sono dei progetti in corso. Sto cercando appunto una casa in questi dintorni per realizzare tutti i progetti che ho in mente. E se ti interessano tutti questi progetti che in futuro realizzerò, seguimi, iscriviti al canale, metti mi piace se ti piace tutto questo e ci vediamo nei prossimi video.